L'Axilella avanza, ma il monitoraggio è fermo. Un paradosso vero e proprio che finisce per penalizzare l'intero territorio pugliese e salentino e che chiama in causa direttamente le responsabilità del governo regionale. Il batterio, che ha già contagiato oltre 21 milioni di piante, provocando un crollo produttivo del 75% nella provincia di Lecce, del 20-25% in quella di Brindisi e del 15% in quella di Taranto, continua ad avanzare al ritmo di 10 chilometri l'anno. Ma per il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, è un danno limitato e contenuto. Io credo che bisogna rispondere con grande onestà e chiarezza a dichiarazioni di questo tipo, che a mio parere e a parere di molti operatori del settore sono veramente gravissime. Sono gravissime per vari ordini di motivi. Il primo è perché con l'Axilella non si è persa una parte marginale della produzione pugliese, ma si è perso un 30%. La provincia di Lecce ha perso quasi il 100% della sua capacità produttiva e adesso siamo arrivati a Brindisi e Taranto. Ci sono più di 10 mila, 11 mila circa aziende coinvolte. Poi non è solo un problema aziendale, è un problema che entra nella nostra storia, perché gli olivi fanno parte non solo della nostra cultura, ma del nostro paesaggio. Sono una ricchezza secolare. Però l'onda lunga di questa incuria e di questa devastazione colpisce la nostra economia a tutti i livelli. Non soltanto a livello agricolo, che comunque già sarebbe grave, ma l'immagine del nostro territorio e dell'incuria che c'è adesso in questo deserto, che vedono i cittadini tutti i giorni mentre si muovono per lavoro pesvago e vedono anche i turisti. Ora è chiaro che un territorio del genere perde ricchezza e perde appeal. Intanto i monitoraggi sono fermi al 30 aprile, giorno in cui è scaduto il contratto degli assistenti fitosanitari che hanno il compito di verificare se e quali alberi di olivo siano stati contagiati dal batterio. Una situazione che appare kafkiana. Nel frattempo si attende anche che la Regione Puglia finanzi la riforestazione e la rigenerazione.